I diritti di negoziazione sono ancora oggi, a distanza di parecchi anni, un tema molto dibattuto nella media industry italiana, ma non solo. Oggi all'interno della relazione tra azienda, centro media e mezzi tramite concessionaria sono ancora gestiti in maniera molto differente da caso a caso. E questo dipende anche dall'approccio che ha l'azienda verso il centro media e dal tipo di contratto che stipula col centro media. Unicredit come affronta questa problematica e come si relaziona con il proprio centro media? Allora, noi abbiamo in corso una grande sfida, che è quella di, non sempre in linea con quello che è il mercato italiano, che è quella di pagare più il valore, dare più senso e più peso al valore del servizio che non ai puri economics. Per cui abbiamo impostato la nostra contrattualistica con un livello di fee, quindi di remunerazione per l'agenzia che si è in grado, che si afferra e che si è in grado di pagare l'intelligence che il centro media è in grado di fornire al cliente, e chiedendo però al centro media nel contempo una trasparenza al 100% che vuol dire ritorno, repatriation dei DN. Ci poniamo in antitesi perché il mercato italiano, non in linea con i mercati più evoluti dal punto di vista del MIDE e della comunicazione, quale quello inglese, ha sempre teso a premiare delle logiche economiche, cioè paghiamo meno, costi più bassi, certi di fee, perché è una materia più spendibile. Noi invece abbiamo preso questo challenge e puntiamo sull'etica. L'etica professionale è quella di dire tu mi fornisci un intelligence, un valore di servizio, io ti pago esattamente, perché siamo in un ambito di business e quindi è giusto che i centri media abbiano la loro remunerazione adeguata a quello che è il livello di servizio. In questo senso il challenge è nostro, nel senso che abbiamo a fronte di costi più alti certi, ritorni incerti. Sul lato agenzia però il challenge è di fornire un'intelligence adeguata a quanto è il livello della remunerazione. Abbiamo appena cominciato questo percorso e stiamo valutandone gli effetti sotto molti punti di vista. Un trend, una direzione che va verso quello che è poi il modello francese, dove però è dovuta subentrare una regolamentazione super partes. Lei pensa che anche in Italia sarà necessario arrivare a questo oppure il mercato si può autoregolamentare? Il modello francese era giusto nelle premesse, poi è vero anche che sul lato agenzie non è stato così rigoroso, nel senso che poi alla fine sono stati imposti dei canoni di non ritorno, di non fatturazione dei DN, ma non è stato fatto lo stesso lavoro sul mondo delle agenzie, fissando degli accordi di cartello che consentissero alle agenzie di sopravvivere per il loro servizio. Non dimentichiamo che le agenzie hanno dei costi fissi, hanno dei costi di team, hanno dei costi di ricerca. Non li vogliamo negare, vogliamo dargli la possibilità di lavorare al meglio. Per cui secondo me il modello francese è una prima base, e poi hanno trovato un loro equilibrio nel tempo, è un modello a cui riferirsi perfettibile. È certo che sia i clienti sia le agenzie si devono dare delle regole. I clienti fare delle scelte che possono essere anche meno popolari a breve termine, ma di successo nel medio e lungo, e le agenzie dovrebbero trovare un accordo di quello che è un corrispettivo fair rispetto a quello che è il servizio erogato. Invece il ruolo dell'audit all'interno di questo mercato? Sia nel momento della gara che dopo. Il ruolo dell'audit è quello di garantire che, se è acceso l'audit, dovrebbe garantire un maggior livello di serenità rispetto a quelli che sono gli economics inseriti a livello contrattuale. A livello contrattuale l'agenzia e il cliente trovano un loro accordo su una politica di trasparenza rispetto ai DN, cioè la restituzione del 100%. Nel momento in cui però il cliente avesse dei suoi alert o dei suoi dubbi, l'audit deve spalleggiarlo nel confermargli che quello che è il suo reale valore della reimpatriation sia effettivo. Un'azienda oggi per riuscire poi a far sistema e a creare un modello condiviso e più etico, cosa dovrebbe fare? Su cosa dovrebbe concentrarsi? L'azienda deve ragionare secondo le logiche che sono meno miopi, di short term. deve considerare che il valore del servizio è il KPI principale nel suo legame con l'agenzia. Gli economics sono dovuti se trovo un partner che mi dia valore, però questo ovviamente comporta una presa di posizione che attualmente le aziende guida, le aziende leader fanno, non tutte le aziende fanno, ma io mi sento di consigliarlo dal punto di vista della media industry. Parliamo della media industry. La media industry deve maturare. I cugini che fanno advertising o che fanno ricerca non si sono mai troppo discostati da questi parametri. Il media spesso lo ha fatto e ci sono delle responsabilità di triplice natura, cliente, centro media, concessionaria. È ora di tornare secondo noi, perché tutto sia più chiaro e più orientato anche agli obiettivi e quindi più valutabile, ha una maggiore luce su questi aspetti. E l'azienda ovviamente deve prendere delle decisioni anche coraggiose in questo senso, ma le aziende leader lo fanno.